Ma che sta a fa' Fran? Calmo! Gogeta ma che è? Il potere di Zenjito! Ed eccoci ragazzuoli, bentornati su Xenoverse 2 Sempre carico al massimo In particolar modo oggi perché abbiamo delle mod Sensazionali Si dice così, non lo so, in ogni caso so così Gasato che dobbiamo partire Ragazzuoli, lasciate adesso un like Mi raccomando, fatevi sentire Al massimo e se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi ora al mio canale YouTube, attivate la campanella Delle notifiche, altrimenti poi vi Perderete tutti i prossimi video Delle mod, ma anche quelli in compagnia di altri YouTuber, raga vi perdete un botto di roba Eh scuso! A parte gli scherzi Ci ritroviamo nella selezione dei personaggi Ed oggi ho installato ben 4 nuove mod, questa qui Mi è molto familiare, probabilmente L'abbiamo già vista di recente ma dovrebbe essere Una nuova versione L'andremo a provare insieme, ma oggi ragazzi Vi faccio vedere giusto qualcosina di sfuggita Sbam! Sbam! Che cos'è quella roba? Cosa era? Per cui ragazzi guardate questo video Fino alla fine E allora, andiamo subito a provare i due personaggi Vi ricordo che queste sono delle mod Quindi sono installabili solo sulla versione PC del gioco Io vi consiglio di acquistare il gioco Direttamente per PC su Instant Gaming Vi lascio il link qua sotto in descrizione Mi raccomando, date un'occhiata al sito Perché lì trovate tanti giochi Anche in preordine a prezzi veramente ottimi Mi raccomando, datevi un'occhiata E andiamo subito a provare questi due personaggi assurdi Il primo è una sorta di Black Goku ultraistinto Il secondo ragazzi è una roba indicibile Cioè, lui Praticamente ragazzi È la fusione Tra Vegito Anche se non hai Potara E Vegito Ah, non ce li hai Potara perché cambiano le orecchie E le avete riconosciute di chi sono? Ragazzi, queste sono le orecchie Ma soprattutto gli abiti di Zeno Quindi la fusione tra Vegito e Zeno Roba veramente assurda E allora andiamo subito a vedere le mosse Ma non è possibile Si scansa questo pentito, no? Nessun problema Andiamo a riprovarlo con un altro personaggio Che non si scansa E ragazzi miei Mi è molto familiare questo E a parte che è distruttivo in una maniera incredibile C'è un moveset veramente folle Sì ragazzi, l'abbiamo già visto In ogni caso È veramente un bel personaggio Che mi sconfinfera veramente tantissimo Io ragazzi Vi ricordo sempre di andare a recuperare Tutti quelli che sono i vecchi video Perché guardate che cosa vi perdete altrimenti Io giorno per giorno ragazzi Vi faccio vedere tante nuove belle mod Ma se vi siete persi i vecchi video Recuperateli Perché altrimenti vi perdete delle mod Veramente sensazionali E soprattutto che poi Non rimostro in futuro Perché tendenzialmente Avendoli mostrate già una volta Non è che mi rimetto a farle rivedere Se non in condizioni particolari Nelle quali avrebbe senso farlo Veramente una mod spettacolare questa Molto molto bella Non dovrebbe avere l'ultra istinto Però comunque è una mod Che mi convince tantissimo Però l'abbiamo già vista Passiamo quindi Alle tre mod nuove di oggi Partiamo subito da questo Black Goku Omni Viene chiamato tipo Omni God È una roba simile Li andiamo a provare Uno per vo Fra? Ma che cosa c'ha questo? Mamma mia! No vabbè ragazzi A parte che cosa sono? Sono tipo dei calippi Non so Mi dà l'impressione che sia un gelato Di vari gusti Vabbè lasciamo perdere questa cosa folle Ragazzi ma questa mod Che io vi sto facendo vedere In questo preciso istante Di preciso Cosa non è? Cioè ragazzi Guardate i teletrasporti Che si riesce a fare E gli attacchi Che subisce Goku In questo preciso istante Questi qua sono gli attacchi pesanti Mamma mia frà Ma che è sta cattiveria? Ma stai moggio Goku Anzi Black Goku Bam C'è una forma di Super Saiyan Rosé Veramente oltremodo potente Mamma mia Vediamo C'è un attacco Big Bang Che non è un proprio Big Bang Veramente potentissimo Poi abbiamo luce della giustizia E mamma mia frà Ma si potenzia st'attacco Mi sa di sì forse Se premo più volte il tasto Poi abbiamo il castigo divino E anche questa in realtà Cambia un pochettino Bam Teletrasporto E lo colpisco alle spalle Divine Charge Ma cosa fa? Guardate lo spettacolo della posa Con queste due spalle giganti Veramente tanta roba E mo ragazzi Si va di fiamme del castigo Ma che spettacolo è? No frà Questa è modificata un botto Sembra tipo che si voglia Fa la trasformazione L'animazione pare quella Di quando in realtà Non so Tipo viene controllato il patroller Mi pare una roba simile E poi si apre È una roba assurda Si va di supreme Ed eccolo qui Quello che cerchiamo Il potere incredibile È del drago Mamma mia raga Ma che ha fatto? È tipo il pugno del drago Ma è un drago viola Completamente È tipo ha rallentato Pure il personaggio Avversario Proviamo l'altra Suprema Assurda Mamma mia raga È arrivato il tuo momento Amico mio Distruggi Completamente L'avversario Mi caso ragazzi Questa è una mod Veramente bella Ma Ah Per un attimo Era scomparsa L'altra lama Che ci aveva sulle mani Pensavo dipendesse da qualcosa Non so se c'è un modo Per disattivarne una Attivarne un'altra Toglierle entrambe Rimetterle entrambe E così via Ragazzi Esteticamente Questa è una mod Spettacolare Guardate come si muove E adesso È arrivato il momento Di provare Zengito Ovvero la fusione Tra Giovanni Praticamente Il nostro Vegito Con Zeno Praticamente ragazzi Una roba simile Cioè non esiste Sulla faccia della terra Perché dovrebbe essere Un essere Immensamente potente Mamma mia ragazzi Che roba In realtà il moveset Non mi sembra eccezionale Mi pare quello di Google 3 Instinto Poi magari No 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 Ci sono delle variazioni Sì sì è fuso Un attimino Con quello di Vegito Poi abbiamo Vediamo un po' Gli attacchi pesanti Che mi sono più che familiari Forse sono sempre Quelli di Vegito Voglio andare a vedere Con voi Quali sono tutte le mosse Di questo personaggio Che ad essere affascinante Ragazzi è affascinante Un botto Mi piace veramente Tantissimo l'estetica E poi Tutti questi Quest'anello Di energia Con queste frecce Dietro Veramente assurdo Ovviamente va a ricordare Quello che c'è Zamasu fusione E veramente Tanta roba Si va ragazzi God Thunder Bam E questo ragazzi C'è da dire Che è molto simile A quello che c'ha Normalmente Bills Eh sì Gli distrugge la stamina È praticamente Quello Si fa comunque Il teletrasporto Gli distrugge Completamente la stamina E bam Lo butta a terra In maniera totale Poi abbiamo Carica con sorriso Tra l'altro Tradotta in italiano Non ho idea Di cosa sia Ma che No Fran Non l'ho capita questa Che ha fatto Ma che cos'è questa cosa Fran Ma non ho capito È un movimento Che non riesco a decifrare Chiaramente Forse va provata In un determinato modo Vabbè Non importa Poi abbiamo Piercing blades Spade Piercing Il piercing Sappiamo che cos'è Ma tendenzialmente Sarà Spade che Bucano Una roba simile In italiano Non mi viene una traduzione Comunque l'attacco di Zamasu fusione Modificato In maniera totale Dategli un nome Italiano figo A sta mossa ragazzi Vediamo un po' Che vi fate usci fuori Poi abbiamo La carica Anche questa Diciamo C'è il teletrasporto Prima di farla E Laura Mi sembra Multicolore Io vi ricordo Sempre una cosa ragazzi Che installando Varie mod Contemporaneamente Le varie aure Vanno praticamente A perdersi Questo è un po' Un peccato Dopo gli ultimi Due tre aggiornamenti Di Xenoverse 2 E vabbè Ci arrangeremo In ogni caso È arrivato il momento Di vedere le supreme Eppure le trasformazioni Che non mi aspettavo In primo luogo Proviamo l'evasiva Campo di forza Gli sta benissimo Veramente benissimo Veramente cattivo Mamma mia Tanta roba E poi vediamo Questa prima suprema Ed eccolo Zengito Il suo potere Mamma mia ragazzi Ovviamente Cambia poco o nulla Eccolo qua Non c'è nemmeno L'inquadratura Sulla sua faccia Non capisco Per quale motivo Normalmente Vigito Viene inquadrato Di faccia Quando fa sta mossa E in questo preciso istante Non lo fa In ogni caso ragazzi A noi frega poco Cioè Io vorrei farvi vedere Il potere di Zengito Amici miei La fusione La fusione Tra zeno E vegito Super saian blu Veramente spettacolare Cattivissimo E vabbè Bam lo colpisce Poi abbiamo L'altra suprema Ritorna mia aura Ok Ed eccola qui Una sfera gigante Ah vabbè ragazzi Questa è Come si chiama Non mi viene in mente Ragazzi Scrivetelo Questa dovrebbe essere Scusami La sfera evanescente Eh sì Pare che sia La sfera evanescente Di Kid Bu Solo che è ricolorata Come se fosse Una sorta di sfera Genkidama Volendo ci può pure stare Però Non saprei Sono un po' interdetto Volevo una mossa Pi' impattante Su di lui Comunque Abbiamo la trasformazione Ed eccolo qui Zengito Trasformati Il potere immenso Eccolo Ma cosa ha fatto Ha cambiato l'aura Ha cambiato un po' La colorazione Ma ha cambiato pure Il moveset No Il moveset Resta quello Quindi Almeno quello leggero Quello pesante Sicuramente resterà Identico Un po' un peccato Voi sapete bene Che di trasformazione In trasformazione Voglio delle variazioni È diventato Tipo velocissimo Sbaglio Sembra di sì Un po' più veloce Gotthunder Le mosse restano queste Se restano queste Ci resta un po' maluccio Sinceramente Vediamo Per Singblades Restano quelle Eppure le supreme Suppongo restino quelle Peccato Anche perché Questa trasformazione Di per sé Non aggiunge praticamente Nulla al personaggio Se non qualche boost Tecnico Cioè proprio di Come dire Di energia Di aura Di vita E così via In ogni caso Molto bella questa moda Soprattutto esteticamente Per le mosse Non male Si poteva fare Qualcosina in più Però In ogni caso Veramente Molto molto bella Torniamo però Alla selezione Dei personaggi Perché ci tocca Lui Ragazzi Questo Gogeta Praticamente Io non ve lo riesco A spiegare Questo Gogeta Parte Guardate il costume È spettacolare C'è un dragone Credo di diamanti Nella parte posteriore Poi c'ha Sti bracciali E guanti incredibili E soprattutto Pure la faccia È come se fosse ferita Non lo so Probabilmente Questo personaggio Lo rivedremo in futuro In un mio votif Però E l'ho fatto già Vedere adesso Abbiamo le sette sfere Del drago alle spalle Le avete notate Di una colorazione Un po' strana E ripeto ragazzi Questo mi sa Mi sa Che è un personaggio Che vedremo in futuro È perché Mi sconfinferà parecchio Devo essere sincero Andiamo a combattere Qui nella faia temporale Andiamo in una zona Semimistica Mettiamola così Oggi sto usando Un sacco di paroloni Un po' particolari E andiamo a vedere Se questo personaggio Rispetto al Gogeta normale Ha variazioni particolari Oppure no Ma che sta a fa' Fra? Calmo Gogeta ma che è? Ragazzi ma Gogeta Stai moggio Ma che Che gli è preso Fra? Maronna mia Gesù Gogeta Gogeta stai calmo Cosa ti prende? Ragazzi è tutta una combo 30 colpi di combo Dati ad una velocità assurda Ma ragazzi Ma cosa sta facendo? Ma Gogeta Stai moggio Fra Mod Devastante Mod Devastante Proviamo gli attacchi Pugno sublime Vabbè questo credo che resti Quello normale Che C'è il Gogu Ultraistinto In realtà no Perché questo distrugge il vigore Poi abbiamo il super pugno del dio Avversario Ripigliati Perché esatto Se no non ti riuscivo a colpire Poi abbiamo il super lampo Stordente divino Ah ok Lui mi deve attaccare No aspetta Non mi devi fare St'attacco Black Un momento Un altro attacco era Però Conosciamo qual è La difesa Diciamo il contrattacco Che fa Questo Questo combattente Poi abbiamo ovviamente Lo spirito Inesauribile Che a lui Alla fine dei conti Sta veramente benissimo Ah non avevo notato il teschio Questo è un teschio ragazzi Che c'ha sul Sul braccio sinistro Veramente tanta roba Poi qui ha anche delle lame Ragazzi In mod veramente Con delle catene Tra l'altro Pure Aspetta ma sul dito Che c'ha Ah c'ha il dito Fra Che cosa ho notato Che cosa sono andato a notare C'ha un anello del tempo Mamma mia fra Di qua no ovviamente Perché se no se ce ne avesse due Ragazzi spettacolare Notare questi piccoli dettagli Una mod veramente Ben curata Mi piace un botto E mo vediamo le supreme C'ha pure la trasformazione Fra Va bene Castigatore divino E mamma mia ragazzi Come lo sta castigando Ad una velocità Immensa Veramente Spettacolare E lo devasta Vi faccio notare Che questa non è la suprema solita E modificata Gli ha distrutto pure il vigore Ma va benissimo Per noi Poi andiamo avanti Con la visione divina Vediamo se c'ha delle modifiche Spaccalo Gogeta Distruggilo in maniera totale Mamma mia Che roba ragazzuoli Che roba E poi abbiamo Il raggio della morte istantaneo Lo becca alle spalle Ma amici miei Adesso ci godiamo La trasformazione Quindi Andiamo a togliere L'HUD Andiamola a vedere insieme E ci siamo Gogeta Trasformati E dimostra il tuo potere immenso Ma che cosa è fra Aspetta un attimo Ha perso l'ultraistinto Per fare sta roba Ma è tipo Un ultraistinto Di quinto livello Sono cambiate Le sfere alle spalle I suoi capelli Sono aumentati Un botto Cioè tipo Alla super sa Andrei va Per renderci Le cose più chiare E poi amici miei Lo colpisce In maniera devastante Moveset che non cambia Quello non cambia Va bene Oh basta Gogeta Le mosse Nemmeno quelle cambiano Un po' un peccato Devo essere sincero Le supreme Nemmeno quelle cambiano Ok Non ci sono variazioni di mosse Ma amici miei Sto Gogeta È devastante Mi piace un botto Veramente una bella mod Io ovviamente Mi aspetto il vostro parere Nei commenti Fatemi sapere che ne pensate Delle mod di oggi in generale Ma credo che abbiamo visto Delle mod veramente A livello estetico Stupende A livello di mosse Potevano fare qualcosina in più Qualcosa di più personalizzato Però ragazzi L'ha shottato Questo shotta Waddu Questo shotta Veramente una mod devastante E ne vedremo tante Tantissime altre Nei miei video Mi raccomando quindi Ragazzi miei Iscrivetevi ora Se non l'avete ancora fatto Cliccando qua al centro Guardate altri video Di altre mod Cliccando qui a destra e a sinistra Io vi saluto E alla prossima Ciao Ciao